cava ferro srl una grande famiglia che compie 25 anni nata ad opera di vincenzo pezza i figli continuano a portare avanti i valori della gentilezza e della professionalità cava ferro si trova a via cesaro a cava dei tirreni la via ernesto de marinis strada extraurbana collocata geograficamente tra cava dei tirreni e vietri sul mare come parte della statale 18 da un po è motivo di discussione per quanto riguarda la questione sicurezza di sera l'illuminazione si presenta carente ed è potenziale causa di qualche tamponamento ma anche di giorno i problemi non mancano come testimonia l'ultimo episodio nefasto di tre settimane fa un incidente stradale mortale i preannunciati lavori nella località tengana potranno mitigare il rischio ma occorre fare anche di più possibilmente controllare l'eventuale superamento dei limiti di velocità in maniera elettronica a prendere una posizione in merito alla questione viabilità sulla via dei marinis sono in un comunicato congiunto le sezioni cavesi di fratelli d'italia e gioventù nazionale due tra le forze di opposizione a cava dei tirreni gli abitanti delle due comunità cava e vietri già scossi da una serie di incidenti gravi ora esprimono un grido di allarme gioventù nazionale impegnata nel rappresentare le voci dei giovani cavesi si fa sentire con forza in questa situazione l'organizzazione si legge nella nota congiunta ha evidenziato la necessità di interventi immediati per salvaguardare vite umane ponendo l'accento sull'urgenza di riqualificare la tratta in questione indispensabile per la provincia e sulla necessità di un costante controllo delle forze dell'ordine la proposta di posizionamento di un autovelox su via enrico de marinis avanzata da fratelli d'italia si rivela come uno dei possibili interventi volti a contrastare gli eccessi di velocità e a ridurre il rischio di incidenti i tamponamenti continui documentati dalle cronache e dai verbali delle forze dell'ordine dimostrano l'urgenza di un'azione concertata i dati allarmanti con oltre 20 incidenti nell'ultimo anno di cui quattro fatali impongono una risposta immediata e coordinata da parte delle istituzioni locali regionali e nazionali in questo quadro allarmante appare incomprensibile prosegue la nota come l'amministrazione comunale la provincia di salerno si mostrino inerti inermi e colpevolmente assenti sono tante le cose da fare a partire da un nuovo approccio culturale violazioni alle norme di comportamento pirateria e quant'altro sono alcune delle problematiche sollevate dalle forze politiche alla luce di tutto questo fratelli d'italia e gioventù nazionale in chiusura di comunicato richiedono al prefetto di salerno esposito e alle autorità competenti di agire senza indugio mettendo in atto misure efficaci per garantire la sicurezza dei cittadini l'attuale situazione insostenibile richiede un impegno prioritario e un coordinamento senza precedenti se tali inviti verranno recepiti a quel punto si ha fiducia che partecipino anche le istituzioni locali nell'ambito di un incontro che dovrebbe avvenire però con urgenza